Buonasera a tutti, giovedì 16 aprilio 2020, sono le 20.15, facciamo il punto della situazione sulla emergenza coronavirus. In realtà non ci sono molte cose da aggiungere rispetto all'ultimo video fatto, nel senso che si continua con una relativa stabilità a livello provinciale, quindi non ci sono casi rilevanti positivi fortunatamente. Lo stesso dicasi per la nostra cittadina, quindi per Mussomeli, dove vi è la presenza ad oggi di due casi positivi, entrambi in isolamento obbligatorio. Domani faremo ulteriori tamponi per coloro che sono rientrati in Sicilia, così come prevede l'ordinanza del Presidente della Regione, dopo i 14 giorni di isolamento sono obbligati a effettuare il tampone. Ci auguriamo ovviamente che nessuno di questi casi emerga effetto positivo. Domani stesso completeremo la distribuzione dei voucher per le ulteriori domande che sono pervenute in questi ultimi giorni e per cui completeremo questa fase. Aspettiamo ancora qualche esito di tampone effettuato nei giorni scorsi, tuttavia il fatto che non siano arrivati i risultati fa ben sperare perché ciò che viene comunicato immediatamente è un eventuale esito positivo del tampone. Quindi continuiamo in questo approccio prudenziale che la nostra cittadina ha avuto in tutte queste settimane, quindi continuiamo nel rispetto delle regole, continuiamo nel rispetto dell'asta che ci siamo dati, cioè nessuno incontri nessuno. Vi auguro una buona serata, ci aggiorniamo presto, presumibilmente domani sera.